Data l'irrilevanza io credo che in Germania nessuno si sarebbe dimesso per una cosa del genere ecco e pertanto non intendo farlo qui. Come dire se va bene per la rigorosa Germania deve andar bene pure per noi. Comincia da qui ma non finisce qui la conferenza stampa di Josefa Idem la ministra sotto accusa per quell'Imu non pagata o pagata tardivamente relativa alla casa palestra di Ravenna. Per quell'errore niente dimissioni dice la Idem che anzi precisa. Voglio concludere dicendo che mia intenzione di continuare ad impegnarmi per il bene del nostro paese. Rimane per il bene del nostro paese anche se per ipotesi dovesse essere indagata per queste vicende perché non sono infallibile ma sono onesta e per tutto il resto parlate con il mio avvocato il quale precisa falso che non siano state pagate Ici e Imu visto che il pagamento con ravvedimento operoso è previsto dalla legge e tuttavia quella formula è stata vista come un modo tardivo per correre ai ripari dice l'avvocato che tenta di chiarire la vicenda dei contributi pensionistici per il periodo di 11 mesi in cui la Idem è stata assessore comunale. Ci sono state alcune irregolarità e ritardi. Me ne scuso pubblicamente, me ne assumo tutte le responsabilità come qualunque cittadino e sanno ciò che sarà da sanare. Non sono una cittadina infallibile ma sono una persona onesta. Nessun reato anche per le questioni relative ai presunti abusi edilizi. La contestazione in merito era stata mossa lo scorso 17 giugno e la ministra il giorno successivo ha pagato la sanzione. Una vicenda tutta di carattere morale dunque. E mentre la Lega mette a punto la mozione di sfiducia per la ministra delle pari opportunità, sarà firmata anche dai 5 Stelle, la Idem va al contrattacco per le parole pesanti come pietre e scagliate con inaudita violenza verso la sua persona. Mi hanno dato della ladra, mi hanno dato della puttana. Ho vinto 5 titoli del mondo e 10 titoli agli europei. Ho partecipato ad 8 Olimpiadi. Nessuna donna prima di me ha partecipato a tante edizioni. Ho imparato tanto nella mia carriera. Ho metodo per costruire un risultato d'eccellenza. Ho imparato a lavorare in squadra. Non ho imparato a fare la commercialista oppure la geometra e nemmeno un ingegnera. Ho delegato tutto con una indicazione chiara. Operare a regola d'arte e nel pieno rispetto delle leggi. Dice proprio così la campionessa ministra prima di abbandonarsi sulla seggiola, lasciar parlare la sua portavoce e chiudere così, tra qualche e protesta. La sua conferenza stampa.